Il discorso è che in realtà per la ramaglia sono ferme, per la ramaglia basta l'otticento dall'altro, i mille cavalli sono preferiti, non è un fila che abbiamo vinto. Non c'è molta differenza tra questa e l'altra per la ramaglia, e tra questa e quella che abbiamo un fermo, non c'è molta differenza. Non c'è molta differenza, non c'è molta differenza, non c'è molta differenza. Non c'è molta differenza, non c'è molta differenza, non c'è molta differenza. Non c'è molta differenza, non c'è molta differenza, non c'è molta differenza. Non c'è molta differenza, non c'è casa. Non c'è molta differenza, non c'è molta differenza. Grazie a tutti.